Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, sono Frank Mazzoni siamo qui oggi nel weekly report hashtag numero 11 signori e signori siamo nell'aggiornamento del canale aggiornamento settimanale del canale di Frank Mazzoni allora, buongiorno a tutti non sto fumando, c'è un freschino, è arrivato il fresco ragazzi volevo farvi vedere una parte diversa oggi invece di farvi vedere la natura qui dietro anzi le montagne avrei preferito, in modo che vedevate un po' la neve un po' com'è la zona da noi in questo periodo fresco, è arrivato il fresco ragazzi allora, tutte le novità del canale di questa settimana diciamo che questa settimana è una settimana tranquilla, soft perché non abbiamo lavorato tanto nel fatto delle live abbiamo fatto più altri lavori in separata sede per preparare qualcosa di carino da portare su youtube allora, ultimamente abbiamo portato poche live perché ero preso a fare dei lavori alternativi sono buttato ultimamente anche sul pc ok, allora, questa settimana abbiamo due cose da segnalare importanti abbiamo inserito, ovviamente abbiamo il nostro server sul day-z dedicato su ps4 chiamiamolo più un server su ps4 e vi spiego il motivo abbiamo un server su ps4, ok? io utilizzo un server su ps4 cos'è che utilizzo io? un server su ps4 fin qui non ci piove adesso il furbone cosa ha fatto? ha pensato di fare un secondo server, ok? io ho la playlist ps4 e la playlist pc quindi adesso andremo ad aprire anche un server dedicato al pc quindi ci sarà un server dedicato al ps4 anzi ps5 e un server dedicato al pc ok? momentaneamente nel server dedicato al ps5 abbiamo day-z come gioco quello è il gioco che abbiamo perché è uno dei migliori da portare nel server nitrato è il top di quello che ci offre nitrato è il top day-z ovviamente se più avanti uscirà qualche gioco sul ps5 o sul ps4 se esce per il ps4 c'è anche per il ps5 io dico ps5 ragazzi perché ho già la ps5 se esce su ps5 un gioco bello da portare anche sul nitrato potremo fare il cambio con day-z ma momentaneamente rimaniamo su day-z perché non vedo all'orizzonte niente di nuovo in arrivo ok, chiuso l'argomento questo qui del server di ps5 apriamo l'argomento server pc allora abbiamo deciso dato che ci buttiamo anche a giocare molto su pc ultimamente sto cercando dei giochi medievali giochi open world medievali survival mi piacciono lo stile di gioco quindi abbiamo iniziato a cercare dei giochi a tema ne abbiamo trovati alcuni interessanti però cercando questi giochi medievali mi è cascato anche l'occhio su un gioco interessantissimo ragazzi che si basa molto come Dead Sea non sto parlando di Death Matter quello lo aspettiamo deve essere ancora in anticipo uscirà in anticipo su steam a breve però siamo lì in attesa anche di quel gioco che lo porteremo sicuramente ma il gioco in questione che voglio portare momentaneamente ora sto provando diversi giochi per pc che sono presenti nel server di nitrado che nitrado vi offre il server per questi tipi di giochi che sto cercando no ho trovati due interessanti per adesso di cui credo che passerò a uno di questi due voglio testarvi intanto intanto in piccolo io ho un gioco live is feudal non so se l'avete visto era bellino mi piaceva un sacco ora stamani vado lì al pc acquisto il server sul nitrado e lo testo direttamente la parte online sul server mio sul mio server direttamente lo inserisco nel gioco nel server e lo provo in un server vuoto ovvero vediamo come gira se funziona tutto a modino perché il gioco era interessante detto questo ragazzi c'è un altro gioco all'orizzonte per pc che mi piace un sacco ho seguito qualche video live non live video scusate e sto parlando di no non sto parlando di Rust ragazzi non sto parlando di Rust per me Rust non mi piace ho guardato Rust si un milione di di un milione di persone nelle live a seguire Rust a me Rust non mi piace c'è la prima persona non mi è mai piaciuto un gioco che proprio ho dato un'occhiatina si così mai ci ho giocato mi stiamo a dire questo ma ho guardato il video basta guardare qualche video di Rust non mi piace mi sembra un 7 days to die uguale 7 days to die puoi fare tante cose non mi piace vi dico la verità Rust mi penso poi tutto in prima persona non mi piace è un gioco che non mi piace se non ci giochi non lo puoi dire raga io guardo i video posso vedere giocandoci cosa puoi provare qualche sensazione diversa ok però se guardi i video puoi capire il tipo di gioco non mi piace per niente quindi Rust non è un gioco che inserirò nel server di pc in questo nuovo server per pc sto pensando di introdurre uno di questi due giochi o Life is Feudal che lo testeremo come ho detto adesso lo porteremo lo inseriremo nel server e vado a provarlo ve lo faccio vedere tramite video che caricherò un video ve lo farò vedere come gira e lo proveremo lì però ho intenzione anche di acquistare un gioco molto interessante che mi piace un sacco scusa Ace scusa sto facendo un video ok grazie Ace Ace da Ace Ventura e il gioco in questione qual è? il gioco in questione è no non è World to World non è World to World anche se è un gioco che ci ho tirato l'occhio ma è troppo cartonesco oh non può immaginare bene troppo cartonesco quindi era interessante perché era anche in italiano World to World datevi un'occhiattina non era male ma non ho intenzione di fare un server su quel gioco è troppo basilare non mi piace tanto ho intenzione invece di aprire un server su pc dedicato ovviamente come ho detto mi lo dedico a un gioco poi se ne trovo uno migliore chiudo e ne apro per quell'altro chiaro che se troviamo un gioco che ci piace allora buttiamo regolamenti facciamo il server tutto ovviamente io apro il server potete anche entrare fino a appena vi do l'ok potete entrare non c'è problema ora voglio testarlo ah scusate il gioco in questione il gioco in questione che voglio portare su pc a parte sta male che provo Life is Feuda è un altro è un bel gioco il gioco in questione è scum si avete capito bene ecco ma c'è c'è anche quell'altro gioco da provare prova questo prova quell'altro no ragazzi io ho guardato scum mi piace porca puttana se mi piace c'ha un sacco di roba di personalizzazione esagerata si può costruire basi craftare survival si può pisciare si può fare la popò un po' sui cacchi si può fare pipì popò nel gioco un sacco di roba pipì popò pipì popò no si può fare un botto di roba ho dato un'occhiata a scum ragazzi è veramente interessante è un bel gioco datevi un'occhiata a qualche video se volete altrimenti attendete perché anche quello è un gioco che acquisto oggi pomeriggio e lo voglio provare lo voglio provare e ovviamente lo proverò nel mio server ok non è che vado a provarlo nei server aperti a tutti proverò direttamente il mio server ora stamattina vi porterò il video Life is Feudal che lo provo nel mio server privato che acquisto adesso nell'online almeno vediamo un gioco come Gira perché sono entrato su Life is Feudal online a giocare in un server ma era una mappa enorme e qui come ti muovevi di un passo c'era una casa un passo un'altra casa quindi capite che questa cosa può dar fastidio è come dei zi che lo lascio aperto al mondo mi costruiscono una casa ogni passo da fastidio quando ti muovi vedi un pochino di ritardi un po' di bug queste cose quindi voglio provare sì Life is Feudal è un gioco interessante però se dovrei scegliere fra Scum e Life is Feudal credo che mi butterei più su Scum ragazzi molto interessante come gioco c'è la prima la terza persona c'è un sacco di cose interessanti aspettate aspettate vi andate a guardare qualche video aspettate che vi porto il mio video per farvi vedere tutto il giornale come sarà il gioco è interessante vi faremo l'introduzione del gioco vi faremo vedere un po' come allora ragazzi detto questo io questa settimana ho passato una settimana in tranquillità mi è dispiaciuto non portare live vi dico la mia però avrei preferito portare qualche live se proprio dovevo portare qualcosa su PS5 chiamiamola PS dai almeno siamo un po' generali per PS4 e PS5 su Playstation chiamiamo avrei deciso di portare qualcosa sul Pro Club GTA no no un Tournet la voglia GTA FIFA Pro Club ci potrebbe stare ma manca quel gioco manca un gioco che ti fa venire voglia di giocare ragazzi io madonna ragazzi dico ma è possibile che al giorno d'oggi non abbiano fatto te giri tutti i giochi della Playstation ma ti sono 1200 non so ma ti saranno te giri tutti ragazzi non ce n'è uno a verso ogni tanto giochi devo giocare con lo spaghetto sono uno spaghetto nel gioco devo giocare su una fetta di pane devo giocare che sono una maionese devo giocare con tutti questi flash tutti questi flash oh se mi salti addosso io ti incuro te lo dico direttamente è il cane qui pronto a saltarmi addosso con le zampe fangose va là cammina donna ragazzi lo devi dire in anticipo che questa era così come ti vorrei saltare addosso almeno se lo aspetta no ho detto di no non mi guardai con quel musoli madonna mi guardano con quel musoli guarda anche il musoli sto stifoso guardalo hai paura del cellulare seduto ti guardano con quel musolo e direi dai fatti saltare addosso schifoso e questo è qua guarda guarda mi sta male il telefono tutto mi sta male guarda qui devo ancora fare il video col telefono oh e torna bene e questo è quanto quindi ragazzi preparati quindi se avete dei giochi interessanti da farci anche il server che potete consigliare ovviamente devono essere presenti su Nitrado vi dico già che ho già guardato tutti i giochi che Nitrado offre la collaborazione col server quindi potete sparare qualche nome ma li ho guardati tutti tutti quelli li ho valutati tutti li ho messi su steam tutti nella lista dei desideri ho guardato qual era in multiplayer qual era in italiano in inglese pace perché spume tutto in inglese se mi piace il gioco a fanbroad o se è in inglese italiano è interessante andremo a provare e vedremo un pochino ok questa settimana detto questo ragazzi credo di avervi detto tutto non è successo niente di strano l'ultima cosa la lunghetta sta diventando sempre più nera e metti a luce ogni tanto schifoio a luce ok vabbè un'altra piccola cosa da dirvi dovrei portarvi anche il mio primo video in rp no non è su gta gta ma non ho rotto i coglioni quel gruppo di ritardati mentali non ritardati è ritardata perché parlare con uno che si senti chissà qui l'amministratrice di gta l'altra volta quella schifosa si senti a chissà qui già dico questo non è sempre che fa per me già si mettono a parlare una ritardata del genere che parla così parla grossa ma con chi stai parlando è scemo o scemo come ti permetti dovevate sentire il tono peccato non l'ho registrato questa volta la registro perché prima di parlare di qualcosa è meglio che la registro e poi la faccio sentire perché se no diceva fai questo stronzo dovevate sentirla dovevate sentirla l'odiosa in persona e quindi per ora ho messo una pietra sopra sul gta rp mi sono iscritto su full rp di gta però ancora non ho chiesto nulla sono lì nel discord però ancora non ho chiesto nulla vediamo più o meno anzi se mi viene la voglia no invece andremo a provare sull'rp dei zi ovviamente su playstation e lo proveremo nel server di aia non mi ricordo il nome akimo akimo akita akicia non mi ricordo il nome vabbè questo è e proveremo in quel server lì mi viene da ridere perché c'ho il cane sotto che è piazzato pronto a saltarmi addosso e c'ha delle zampe ragazzi me lo potete immaginare ehi se non lo fare ha fatto il gesto di muoverci schifoso e sta iniziando a scondizolare quindi è grave ma è meglio chiudere il video il prima possibile ragazzi ci vediamo nel prossimo video un saluto a tutti da Frank Mazzoli è tutto lo sapevo schifoso ci vediamo nel prossimo video ragazzi Frank Mazzoli è tutto il prossimo video grazie a tutti